Ancora Raimo va, il suo servizio in sidiosissimo, Gligorovic, poi il tocco di Miratopic, il muro poi non riesce a mettere giù questo rigore la Kovalenko, palla ancora nel campo, ma questa volta è brava, Ossana Parcomenco ha... Schiacciata da basket questa della Parcomenco, che ha fatto punti fino ad oggi in tutti i modi, pallonetto, attacco, muro, servizio. Buona giocatrice.